Sindaco, lo sport è il tema principale di questo periodo con le universiari, se avete novità per quanto riguarda il supercommissario? No, attendiamo il governo, noi continuiamo a lavorare chiaramente perché il tempo passa, il tempo qui non è una variabile indipendente, nel senso che non si può perdere un giorno, quindi noi il nostro lo stiamo facendo e ci auguriamo che il governo adotti una misura giusta, equilibrata, efficace che consente di dare forza e potenza alla macchina amministrativa, da questo punto di vista siamo in attesa del governo, io credo che entro fine luglio ci sarà il provvedimento normativo, almeno questa è l'idea che era venuta fuori dalla cabina di regia. Ma al di là del mondo c'è un profilo? No, chiedete al governo, una domanda va apposta al governo.